Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio appena pubblicato dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo dal titolo Il Reame di Siena, la costruzione della dogana dei Paschi e la svolta del tardo Medioevo in Maremma, metà XIV inizi XV secolo, 345 pagine per 25,50 euro. Un lavoro molto importante su un argomento molto complesso con una grossa ricerca alle spalle e io sono molto contento di avere con noi l'autore che è appunto Davide Sì, Davide Cristofferi, al quale lascio subito la parola e non rubo altro tempo in modo che ci possa parlare di questo suo lavoro. Prego Davide. Grazie, salve a tutti e innanzitutto grazie per l'opportunità che mi è stata data di presentare questo lavoro che è uscito appunto recentemente. Questo libro nasce in realtà da una domanda che anche oggi in qualche modo ci siamo costretti a porsi. Una domanda che era alla base della mia ricerca e dottorato e che dico subito, cioè come una crisi ridisegna la struttura, il paesaggio, l'economia, la società di un territorio. Per cercare di rispondere a questa domanda che è una delle domande principe che ci portano a studiare quella che ho chiamato nel libro la svolta del tardo medioevo, ma che è stata già chiamata crisi o transizione del tardo medioevo, cioè tutta quella serie di fenomeni che sono facilitati, vettorializzati dalla peste del 1348, quindi siamo alla fine del medioevo, fine metà quattordicesimo secolo. Ecco, questa domanda, per cercare di rispondere a questa domanda ho preso in esame un caso di studio particolare. Siamo in Toscana, Toscana meridionale, nella città-stato-repubblica, il comune di Siena, subito dopo la peste del 1348 e Siena che già prima aveva un piano di espansione militare, ma anche politica ed economica sulla Maremma, l'odierna provincia di Grosseto, ma anche un po' più ampia, ecco si trova di fronte a un territorio che era ben diverso da quello che era stato vagheggiato all'inizio del suo processo di espansione in quest'area. Un territorio che era di fatto sempre più spopolato, colpito duramente alla peste del 1348, un territorio dove era molto più difficile produrre ed esportare grano come invece si faceva in precedenza, in modo certamente più ampio, dove anche appunto le attività metalliche, metallurgiche, di estrazione metalliche erano in crisi e dunque si trova però di fronte a un territorio che continuava ad avere una grande risorsa, una risorsa evidenziata alla crisi, cioè degli spazi spopolati a pascolo, non più fruibili per la coltivazione, non più utilizzabili e che appunto decide di sfruttare in modo sempre più ampio. Questa è la nascita di quella che ho chiamato nel titolo il reame di Siena. In realtà ancora, proprio per far comprendere come questo percorso sia molto complesso, questo reame in realtà per Siena resterà sempre quello della produzione cerealicola e della terra da ripopolare, ma di fatto mentre dichiarava questo in tutte le sue delibere non lo fece o non lo riuscì a compiere fino in fondo. In realtà creò quello che era un sistema di organizzazione e sfruttamento dei pascoli della Maremma, queste ampie risorse di pascoli in un territorio spopolato che venivano già in precedenza utilizzate per l'allevamento transumante. Che cos'è l'allevamento transumante? È semplicemente un percorso di migrazione stagionale del bestiame tipico delle aree del bacino mediterraneo e che già in precedenza puntava molto sulla Maremma, ma che dopo la peste del 1348, con gli spazi spopolati e la domanda dei mercati urbani comunque maggiore di prodotti animali per l'industria ma anche per il consumo nei mercati aumenta. E Siena appunto cinque anni dopo la peste del 1348, nel 1353 inizia un processo di costruzione che è in realtà un grande progetto, un progetto che appunto permette il ridisegno di quel territorio, a seconda la crisi, questa è il grande, l'ipotesi, la grande ipotesi dell'ipotesi principale del libro e l'obiettivo è sempre più esplicitamente dichiarato di risolvere la situazione finanziaria senese, di salvare in qualche modo le casse senesi in crisi proprio per lo spopolamento, le diminuite rendite fiscali, la crisi militare del territorio e allo stesso tempo però di fatto sacrificando il territorio stesso, le possibilità di ripresa, di ripopolamento della Toscana meridionale, ma per salvare la città e l'economia urbana e gli investimenti delle sue elite. Quindi il libro si gioca per cercare di rispondere attraverso il caso di studio della Maremma, si gioca per provare a rispondere a come una crisi ridisegna un territorio, ovviamente in compartecipazione con quella che è le decisioni, le scelte degli uomini di quel tempo. Appunto, il libro, questa è la domanda, la risposta si gioca, come ho già anticipato, su tre punti. Prima di tutto l'azione del Comune di Siena che costruisce un ufficio, questa Dogana dei Paschi, che in realtà significa monopolio perché Dogana deriva da una parola araba di Juan che significa appunto ufficio pubblico ma che in Italia viene tradotta con il termine di fatto di monopolio e non è un caso unico ma avremo altre Dogane nel Regno Aragonese di Napoli, ad esempio nello Stato Pontificio, ma la Dogana senese sarà la prima a chiamarsi con questo nome. In più, quindi, abbiamo detto la Dogana con lo Comune di Siena, la Maremma e la Transumanza all'interno del contesto della crisi del Tardo Medioevo. Il libro ripercorre questo percorso e per farlo è nato dalla ricerca e dottorato del sottoscritto che si è svolta appunto all'Università di Siena fra il 2012 e il 2015-16, più un periodo più lungo diciamo di gestazione e che ha come obiettivo, ha avuto come obiettivo esplorare a fondo l'archivio di Stato senese, soprattutto che è uno degli archivi per quello che riguarda le fonti pubbliche tra i più ampi e i più ricchi nel panorama del Medioevo italiano e per conservazione e per quantità di fonti e attraverso le varie fonti pubbliche del Consiglio Generale di Siena, ad esempio della Signoria Senese, i bilanci dello stesso ufficio, oltre a tutti gli statuti e le comunità locali che sono state investite da questo processo di costruzione, di fatto è appunto ha permesso di ricostruire questo percorso molto complesso, percorso molto complesso, non lineare ma in cui la progettualità senese, questo è uno dei punti che mi ha colpito molto svolgendo questa ricerca, emerge veramente con forza, cioè di fatto si vede proprio come Siena scelga di fronte a un contesto di crisi, faccia le sue scelte e le faccia in modo abbastanza chiaro e motivandole, far l'altro con parole che risuonano in qualche modo ancora adesso per la loro forza perché ci si rende ben presto conto che facendo questa scelta di sfruttare i pascoli senesi, si guadagnerà duemila fiorini e detotto più e quindi si fanno già i propri calcoli dei benefici e dei costi e in più si comincia a considerare questa rende come la migliore che abbia il comuno e che per Dio sappiasi mantenerla e quindi si ripercorre un processo che seppur non lineare, ripeto, si vede però che ha una sua progettualità e se ne esimano le idee ben chiare attraverso i vari regimi che hanno caratterizzato questo periodo. Questo per, diciamo, come breve in breve introduzione al volume. I contenuti, diciamo, questo libro in realtà si sviluppa in tre parti ed è accompagnato anche da un appendice molto ampia e in questo in qualche modo può, come dire, questo in realtà è stato anche un debito, l'appendice che ho sempre avuto anche per altri libri che avevano grandi appendici che mi hanno permesso anche a me, che hanno permesso anche a me di sviluppare le ricerche e quindi ho voluto, grazie anche all'editore, ho potuto inserire una serie di tabelle a supporto delle ricerche ma anche a supporto delle mie ipotesi ma anche di future ricerche. Comunque i capitoli principali sono tre e nel primo si delinea di fatto la storia della dogana ai 70 anni dal 1353, la prima delibera che ho trovato con la costruzione in cui si stabilisce di fatto di cambiare il sistema di sfruttamento dei pascoli e fra poco mi addentrerò più in dettaglio su come funzionava questo sistema e allo stesso tempo fino dal 1353 fino al 1419, l'anno in cui viene di fatto pubblicato lo statuto, lo statuto della dogana dei paschi nel 1419 e che fino ad oggi, fino a questo libro di fatto era stato considerato come il momento fondativo principale. In realtà ho potuto dimostrare che questo percorso aveva 70 anni di storia alle spalle e ho potuto mostrare i vari passi che sono stati fatti appunto dal comune senese in questa direzione. Quindi il primo capitolo è la storia, l'idea che la storia della dogana dei paschi nel contesto e dell'espansione militare della maremma senese che viene ricostruita e in qualche modo chiarificata anche da un punto di vista cronologico e allo stesso tempo nel contesto della crisi del tardo medioevo in quest'area specifica cronologica eh d'Europa e della Toscana che eh rispetto ad altre regioni risulta essere colpita ben più duramente appunto di altre non solo dalla peste ma soprattutto dalla crisi militare che colpisce il lo stato senese. Questo è il primo capitolo. Nel secondo e nel terzo invece si abbandona diciamo in qualche modo la struttura cronologica ma ci si concentra su due aspetti principali. Eh come funzionava questa dogana dei paschi questo monopolio dei pascoli appunto monopolio che eh poi in età moderna ha dimostrazione della sua ulteriore rilevanza non solo per la storia senese ma in qualche modo anche per la storia del nostro paese più ampio è stato associato per garantire l'assolvibilità finanziaria dell'allora nel 1624 monte di pietà da parte dei medici monte di pietà di Siena diventando poi quello che ancora oggi è noto come il monte dei paschi uno dei principali istituti bancari eh prima della Toscana e poi dell'Italia unita fino ad oggi. Dunque eh se nel primo abbiamo detto la costruzione della dogana dei paschi e lo sviluppo della transumanza che ad essa è legata appunto in un'evoluzione in un'evoluzione eh complessiva e coerente parallela il secondo capitolo si concentra su come questa dogana questo monopolo dei pascoli è stato costruito cioè espropriando eh in varie modalità il i beni comuni le proprietà collettive i diritti di pascolo che le varie comunità rurali della Maremma e i loro abitanti possedevano e vantavano eh da eh grazie a una serie di accordi con i signori precedenti o per diritto eh acquisito. Tutto questo con la conquista militare sinese viene sconvolto e di fatto si instaura un super eh diritto che è quello della dogana dei paschi che fa sì che in queste aree invece di la precedenza eh averla il bestiame delle comunità rurali singolo eh dei dei singoli abitanti viene invece eh concesso a tutti coloro che sono fatti entrare dagli ufficiali della dogana e tutto questo sconvolge il 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 panorama anche eh allevatizio dell'area eh a seconda l'impatto della crisi demografica militare fiscale che già vi era in questa zona e quindi fa sì che anche le possibilità di ripresa di queste comunità probabilmente siano eh sempre più eh diminuite tant'è che infatti si trovano numerosissime petizioni in cui le comunità chiedono di poter riprendere almeno parte dei loro antichi privilegi o di avere qualche spazio in più ma invece questi spazi sono negati e si vede proprio che Siena è Siena a decidere i tempi gli spazi dell'allevamento eh del bestiame in queste aree ovviamente a vantaggio di chi pagava denaro sonante e in particolare fiorini d'oro per accedere tramite la dogana agli stessi pascoli e quindi abbiamo il secondo capitolo è su questo il terzo invece eh intende è molto diciamo è più tecnico da questo punto di vista e si concentra su il sulla struttura degli ufficio dei paschi in questo intende entrare un poco in un in una serie di dibattiti il primo è quello per chi si occupa di transumanza per chi si occupa soprattutto di eh prima età moderna è ben noto perché si rifà a Fernand Brodelle e Fernand Brodelle nel suo famosissimo affresco sul Mediterraneo all'età di Filippo II si rifà proprio allo sviluppo di istituzioni pesanti come una cifra eh della della prima modernità e ovviamente istituzioni pesanti per la gestione di questi grandi flussi della transumanza e qui appunto ci si permette di parlare appunto eh di un altro delle della terza colonna ovviamente che c'è nel libro cioè quella della transumanza eh del terzo protagonista eh del libro che è quello della transumanza cioè una istituzioni pesanti per la gestione di flussi di migliaia e migliaia e migliaia di ovini ogni anno avanti e indietro dai monti alle pianure e che per questo avevano bisogno di un'istituzione complessa burocraticamente organizzata in grado di dare a ciascuno il proprio spazio garantire il passaggio del bestiame e eh e raccogliere ovviamente il pagamento per l'utilizzo dei pascoli tutto questo nella nelle 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 paradigma di Fernand Brodelle eh è possibile solo se vi sono istituzioni pesanti la dogana oppure le associazioni di allivatori con privilegi fiscali eh nella nella penisola iberica ad esempio e eh tutto questo ovviamente è molto meno possibile laddove queste istituzioni mancano ora la dogana sienese è rispetto al paradigma di Brodelle un po' fuori dagli schemi perché in realtà è un'istituzione che non si preoccupa eh molto di dove passa il bestiame non si preoccupa molto di di organizzare in modo dettagliato eh i pascoli non si preoccupa molto di fatto della protezione dei pastori si preoccupa soltanto eh di fare più soldi possibili come esplicitamente dicono si dice nelle nelle delibere eh appunto di eh guadagnare più soldi possibili per le casse senesi questo è eh esplicitamente dichiarato in moltissimi verbali consigliari in cui tutti i consiglieri non tutti ma una grossa maggioranza approva e sostiene eh questo tipo di di azione e anzi la raccomanda più volte proprio ufficiale quindi rispetto a questo la dogana non è un'istituzione pesante in senso come lo intendeva Brodelle o perlomeno lo è ma solo per quando quello che si tratta eh per quando eh quando si devono appunto raccogliere eh le i soldi le le gabelle i pedaggi alla fine dell'anno transumante in questo senso la struttura organizzativa per la gestione finanziaria della dogana è complessa è re e in qualche modo eredità anche delle altre grandi istituzioni grandi uffici che il comune di Siena già aveva sviluppato nei secoli precedenti e che in qualche modo si vede che questo know-how viene travasato anche nella gestione finanziaria della dogana. Importante perché con eh l'assolvibilità finanziaria anche degli interessi il debito pubblico senese sarà garantito spesso e volentieri proprio dalle entrate dalle rendite della dogana. Ripeto quella che consideravano la migliore che abbia il comune anche perché eh queste rendite erano rendite che eh di fatto entravano a costo quasi zero. Le spese si aggiravano ogni anno su uno, due, tre, quattro migliaia di fiorini a fronte di ventimila eh fiorini che potevano entrare. Quindi altre volte addirittura i costi erano molto più bassi o si raccomandava spesso agli ufficiali di tenerli bassi. Quindi di fatto era eh per un prodotto come l'erba che aveva un costo praticamente non zero ma quasi si otteneva eh un ricavo assai alto. E proprio questa questa caratteristica ci per me mi ha permesso di fare un ultimo eh confronto in questo terzo capitolo prima delle conclusioni tra la dogana senese e le dogane eh pontifice. Quella di Roma e soprattutto quella del patrimonio di San Pietro che è l'odierna Tuscia nella zona del Viterbese fino a Civitavecchia. Perché? Perché la queste dogane erano assai più grandi come il numero di bestiame che ogni anno entrava eh nei loro pascoli ma ottenevano renditi finanziari nettamente minori. E questo perché? Perché eh evidentemente alla base di ciascuno di di dei due distinti percorsi costruzione doganale erano due percorsi distinti percorsi di costruzione statuale. Cioè lo stato alle spalle della dogana eh in un processo di ricostruzione e sviluppo quello pontificio come quello senese eh erano assai differenti. Infatti eh non solo avevano anche in qualche modo antagonisti assai differenti. Perché nell'area senese gli aldobrandeschi eh gli orsini eh erano già in crisi agli inizi del trecento come è stato eh affermato da ricerche precedenti in particolare con l'Avini. E quindi si vede eh che di fatto Siena soprattutto dopo la crisi della peste del mila e trecento quarantotto ha molta più mano libera da un punto di vista militare ma non solo. Mentre nell'area lo stato pontificio complice eh la distanza del papato avignonese e la forza di quelli che sono i baroni romani ma anche le comunità locali o le altre città e piccoli centri eh della zona ovviamente il lo stato pontificio anche per la sua particolare natura ha sempre usato di venire a patti e di fatto la sua dogana la dogana del patrimonio di San Pietro si occupa soprattutto di proteggere e e e di ehm controllare il percorso ed esiste ed esigere un pedaggio per questo. Poi il mercato dei pascoli non è pubblico è prevalentemente privato e questo spiega perché le rendite alla fine sono molto sono più basse. Le la dogana del patrimonio di San Pietro funzionava sulle proprie sul grande numero di bestiame quella sulla capacità di estrarre ricchezza dal numero di bestiame un poco minore ma comunque comparabile che vi si recava. Si parla comunque intorno ai centomila capi di bestiame per quella di Siena e di forse quasi il doppio per quella per quella del patrimonio. Quindi questa ricerca, questo percorso, questo libro ha un mostra un momento molto complesso con tanti spunti non solo per la storia diciamo dell'agricoltura, la storia della transumanza, non solo per la storia diciamo eh della società e dell'economia maremmana e di quella senese ma intende in qualche modo proporre eh una un intende proporre un un'immagine della svolta del tardo medioevo in cui eh di fatto la società ovviamente non subisce eh semplicemente la crisi ma la interpreta e la interpreta e cerca di volgerla ovviamente a proprio vantaggio ovviamente chi ha in quel momento il potere politico e economico ha le leve alle possibilità ovviamente con una serie di limiti legati al contesto e a quelle che sono comunque costruzioni umane ma ha la possibilità di eh appunto mh deflettere l'impatto della crisi o di ridistribuirne in modo più o meno vantaggioso quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. Il caso della Dogana dei Paschi del Reame di Siena è questo. Un'area che era chiamata Reame proprio per le sue dimensioni, per la ricchezza e le sue risorse lo diventa però per chi? Per Siena, per il comune e soprattutto per chi all'interno del comune appunto era in grado di eh partecipava alla gestione pubblica, partecipava alla gestione eh del debito pubblico, partecipava agli investimenti privati eh nella transumanza, nelle altre attività eh legate alle amaremma, mentre allo stesso tempo l'impatto della crisi non solo viene acuito per le comunità amaremmane, molto probabilmente, ma di fatto viene sia ehm si si attua una specie di selezione. Alcune comunità strategicamente, militarmente, strategicamente importanti in qualche modo o che erano già più resilienti, cioè in grado di rispondere alla crisi, vengono eh mantenute in vita, vengono privilegiate all'interno del nuovo ecosistema della Dogana e allo stesso tempo altre che già ormai erano abbandonate, scopolate, vengono lasciate morire, diventano pascoli per le altre comunità più resilienti. E quindi eh il libro intende collegarsi in ultimo, perlomeno lanciare uno spunto anche rispetto all'ultimo grande dibattito, uno dei più recenti sulle disuguaglianze economiche e sulla relazione fra crisi eh e disuguaglianze proprio perché eh vuole far mostrare come eh rispetto a un a un momento di trasformazione, di cambiamento ci sia sempre la possibilità o meno eh di eh appunto agire eh rispetto alla crisi e di assecondarne o meno quelli che sono gli spunti non sempre magari necessariamente negativi ma ovviamente eh eh come dire sempre con una serie di impatti eh svantaggi e svantaggi il cui peso può cambiare a seconda di chi si trova in determinata posizione nella società. Mi 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 immagino un reame di Siena di grande pragmatismo. Sì. No? Cioè dato un obiettivo quello si persegue e non si devia neanche di un passo. Esatto guardi lei ha proprio catturato uno dei punti che in realtà eh il libro di fatto conferma eh ma conferma rispetto a un pragmatismo che già era stato rilevato per quello che riguarda la gestione eh amministrativa finanziaria del comune di Siena per il regime dei nove che di fatto è il regime che inizia la costruzione del Granale dei Paschi ma che non la termina perché due anni dopo viene eh viene defenestrato e viene sostituito dal regime dei dodici ma e e altri si seguivano ma che di fatto lascia in eredità un pragmatismo proprio che si nota in queste delibere molto ricche anche di dettagli in cui si vede il tentativo volta a volta di aggiustare rispetto al problema la politica eh senese in quell'area o rispetto a quella comunità in modo da risolverlo il problema senza partire da preconcetti ma ovviamente con l'idea che quei Paschi devono essere senesi. Certo no oltretutto Siena è obbligata a rivolgere la sua attenzione a quel territorio perché è stretta nella morsa tra Arezzo da una parte e Firenze dall'altra. Esatto. Ne resta giusto la Maremma Grossetana. Esatto. Questo era già un percorso di fatto che come nota Odi Redono iniziava eh iniziò già nel dodicesimo secolo di fatto ma che anche la costruzione della Dogana dei Paschi e lo Siupp la Transumanza eh assecondano e volgono a favore di Siena. Perché? Perché di fatto buona parte del bestiame transumante non era senese molto probabilmente ma era eh fiorentino, aretino, cioè era delle aree appenniniche comprese anche poi anche la Grafagnana e il Pistogliese che di fatto poi fra trecento e quattrocento cade sotto il poi il regime fiorentino e quindi eh il fatto che questi centomila capi transumanti che pagavano un fiorino a testa ogni eh ogni 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 anno per recarsi nei un fiorino ogni scusate un fiorino ogni cento capi eh che pagava ogni anno per recarsi nella Maremma senese era che cos'era? Erano di fatto fiorini d'oro che non era coniato a Siena ma che si ma che veniva fatto entrare in terra senese messo in circolo nell'economia e nelle casse comunali senese e quindi come infatti ho provato a affermare nel libro si trattava di un di uno scambio in cui per l'erba Siena otteneva l'oro e probabilmente ma questo diciamo più come ipotesi difficilmente difficile a dimostrare ma in qualche modo si intuisce anche pace in cambio di erba ovvero Siena anche quando poi a cavallo fra tre e quattrocento avrà qualche decennio di guerra e di guerra a intermittenza e a volte più consistente con Firenze cerca sempre in tutti i modi di proteggere eh i pastori e i greggi transumanti fiorentini con con dei lascia passare anche durante i periodi di guerra proprio perché questo denaro questi questi fiori d'oro potessero continuare a entrare nelle casse senese quindi iper pragmatismo proprio eh sì esatto è veramente molto interessante io a questo punto ricorderei ancora il titolo del del saggio scusate che è il reame di Siena la costruzione della dogana dei Paschi e la svolta del tardo medioevo in Maremma metà quattordicesimo inizi quindicesimo secolo appena pubblicato dall'istituto storico italiano per il medioevo di Davide Cristoferi 345 pagine per una cifra che tutto sommato è accettabilissima perché sono venticinque euro quindi sicuramente è un è un volume importantissimo per chi fa ricerca per chi fa studio perché immagino che ci sarà un enorme apparato bibliografico eh e documentale non indifferente mi immagino anche un lavoro negli archivi e nell'archivio di stato senese sì è stato sì è stato un lavoro molto intenso è molto anche molto bello oggettivamente veramente un molto bello uno degli anni più belli di ricerca che ho passato appunto nell'archivio di stato di Siena allo stesso tempo mi permette dire che sicuramente si rivolge a un pubblico di specialisti ma si rivolge rivolgersi anche a un pubblico a tutti coloro che sono interessati sia alla storia della transumanza che della Maremma che della città di Siena ho cercato sempre nel libro di mantenere un tono e un ritmo che permettessero una comprensione agevole di quello che si tratta sicuramente di un tema complesso e dai molti spunti ecco sì poi parliamo di un territorio anche dal punto di vista paesaggistico esatto testimonianze monumentali incredibile a partire da da massa marittima arrivare fino a a Grosseto esatto è un territorio davvero eccezionale ancora oggi no quindi esatto bello andarselo a vedere portandosi dietro il suo saggio e capendo anche come mai certe cose sono così invece che in altro modo e io ringrazio tantissimo Davide per questa presentazione e c'è un po di invidia perché l'archivio di stato di Siena deve essere davvero bello io conosco abbastanza bene il territorio la città e anche soprattutto l'area del Grossetano perché ho passato un sacco di anni di vacanze tra Gavorrano e Scarlino quindi ah molto bello per cui anch'io sono del gruppo che ha fatto vacanze in Maremma anzi il libro in qualche modo è stato ispirato anche da questo e certo poi vabbè sono un estimatore di quello che secondo me è una delle cittadine più belle che ci siano in assoluto che è massa marittima perché il centro storico è tra il Duomo che è spettacolare la fonte dell'abbondanza che è particolarissima la piazza su cui ci sono il Duomo e i palazzi comunali e quant'altro è veramente un posto magico va bene grazie a voi e a presto a presto arrivederci grazie